Con Raffaele Torti matura la prima sconfitta casalinga, un peccato anche perché il Nuoto 2000 ha tenuto testa alla capolista fino alla fine. Sì, purtroppo noi pecchiamo un po' di ingenuità, regaliamo un po' di gol alle squadre avversarie, nonostante il nostro coach ci dice di fare attenzione a questi errori. Paghiamo lo scotto di una squadra giovane perché comunque abbiamo tenuto testa fino alla fine, ci è mancato un po' di esperienza, infatti loro hanno fatto un paio di gol di esperienza e quindi ci hanno punito. Nuoto 2000 che è pervenuto al pareggio 5 a 5, tutto è maturato solo nell'ultimo minuto di gioco. Sì, abbiamo fatto come dicevo prima quei due errori lasciando Ennio da solo, Barriale, dopo quattro finte non puoi tirare, là devi attaccare, devi spezzare il braccio detto in modo amichevole, ma non puoi lasciare un avversario fintare quattro volte anche perché io che sono fortiere posso resistere 20 secondi, 15 secondi ma poi a un certo punto perdi anche un po' di lucidità. Prestazione sempre di livello, quella di Raffaele Torti che difende estrenuamente la porta del Nuoto 2000. Sì, io durante la settimana mi impegno facendo sacrifici lasciando molte volte la famiglia a casa da sola la sera perché per fare questo sport ci vuole molto sacrificio e molto impegno. Poi il portiere ha un ruolo abbastanza particolare perché se non ti alleni l'errore del portiere viene visto sicuramente in modo maggiore rispetto a un errore che può fare un attaccante o un difensore. Quindi ci alleniamo per fare sempre bene nonostante l'età. Una tripletta importante che però non basta nonostante il Nuoto 2000 abbia disputato una gara davvero di qualità. Sì, la partita è stata equilibrata sin dall'inizio, infatti il primo tempo c'è proprio 0-0. Potevamo fare qualcosina in più anche perché loro natatoriamente secondo me non stavano all'altezza nostra. Non si è vista dunque la differenza tra la capolista e la neopromossa? Assolutamente no, parlano i fatti e i risultati. Abbiamo subito due con l'uno per distrazione, doveva andare io però non essendo abituato a marcare il centro mi sono dimenticato che doveva andare. E l'altro, non mi ricordo come era l'uno, non l'abbiamo preso l'ultimo. Parisa che stava in contropiede davanti alla porta e doveva segnare la forza. Sabato prossimo trasferta con l'Ossidiana il fanalino di coda del girone 4. Sabato prossimo siamo chiamati a vincere per forza, anche perché possiamo vincere, siamo una buona squadra di alto livello, i giocatori ci sono, l'abbiamo dimostrato partita per partita, quindi andiamo là tranquilli per fare il risultato.